Per noi è una nozione per i giornalisti e anche per i miei amici che sono i giornalisti. Naturalmente l'approccio è un approccio molto semplice per iniziare a ragionare sul vino. Questo mondo spaventoso, enorme che è il vino. Ormai è una cosa incredibile. Una galassia. L'azienda si chiama... E' l'ultimo Santa Croce. Grazie. 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 Grazie.